Stop a cerimonie e manifestazioni per strada e all'esterno della chiesa di San Benedetto, venerdì prossimo 22 maggio a Barletta, nel giorno dedicato alla memoria liturgica di Santa Rita, una festività molto sentita in città, soprattutto nel quartiere Settefrati. Le prescrizioni e i provvedimenti emanati dal governo per il contenimento del contagio da Covid-19 spiegano dal comune, vietano simili iniziative perché potrebbero creare assembramenti che sarebbe impossibile scongiurare, considerato che tale evento ogni anno coincide migliaia di fedeli. Il sindaco Cannito si cautela dopo levementi polemiche rimbalzate anche sulle tv nazionali per le misure di sicurezza violate in occasione dell'arrivo della Madonna dello Sterpito in cattedrale. Anche in virtù di questo precedente, per il regolare svolgimento delle celebrazioni in onore di Santa Rita, sono stati predisposti appositi dispositivi di ordine e sicurezza pubblica da parte del questore di Bari. Il prefetto della BAT, Maurizio Valiante, ha inoltre invitato le forze di polizia a prestare massima attenzione in occasione delle cerimonie religiose in programma nei diversi comuni del territorio e che potrebbero richiamare una forte partecipazione popolare. A tenere banco, nelle ultime videoconferenze tra il prefetto e i vertici provinciali delle forze dell'ordine, anche il ritorno della movida serale, i rischi connessi al mancato rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e più in generale delle normative anticontagio. Valiante ha disposto controlli serrati con il concorso delle polizie locali per evitare pericolosi assembramenti nei luoghi maggiormente sensibili e particolarmente affollati già in questi primi giorni di rilascio del lockdown. Saranno dunque predisposti servizi mirati interforze analogamente a quanto avvenuto nella serata di lunedì 18 maggio in piazza Longobardi a Trani. Il direttore generale della ASL delle donne ha ricordato che il rispetto delle regole in questa fase 2 dell'emergenza servirà ad evitare che la prossima ondata epidemica si presenti in anticipo rispetto alle previsioni degli esperti, un appello che sposa anche il prefetto. Rimane fondamentale non abbassare la guardia e non lasciarsi andare a comportamenti imprudenti o irresponsabili per la propria ed altrui salute, sottolinea Valiante, permanendo anche in questa fase i rischi di diffusione del contagio da Covid-19.